La prima vittoria in trasferta 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 Molto più alta la sanzioni per malati Le persone in attesa di risposta In questo caso si rischia l'arresto Da 3 a 18 mesi Oltre che la multa Da 500 a 5000 euro Si può essere infatti denunciati Anche in questo caso Per epidemia colposa Sanzioni pesanti Anche per chi ha eseguito il tampone Ed essendo stato posto in quarantena Precauzionale Viola il provvedimento In questo caso Multe da 400 a 1000 euro Sul nostro sito internet trovate appunto tutto quello che riguarda le possibili multe per i trasgressori all'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio. Soldi alle aziende. Il Governo ha assicurato che nella giornata di lunedì, massimo martedì, su gran parte delle aziende che hanno già avuto ristori precedentemente, arriveranno quindi i soldi stabiliti dal decreto. I soldi arriveranno tra lunedì e martedì e i fondi messi a disposizione per il decreto ristori arrivano a 2 miliardi e mezzo di euro. È stato introdotto un bonus babysitter da 1000 euro nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile. Il congedo straordinario con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti. Rinviate le tasse per le imprese chiuse nelle zone rosse e tra le categorie che hanno diritto agli indennizi sono stati inseriti anche negozi di abbigliamento ed elettrodomestici, ambulanti, estetisti, tatuatori, sexy shop, agenzie matrimoniali, canili, dog sitter, toilettatura. Sono stati disposti i bonifici in favore di oltre 211.000 imprese per un totale di 964 milioni di euro. Quasi un miliardo, ha detto il ministro Gualtieri al termine del Consiglio dei Ministri. Soldi ha aggiunto che arriveranno già lunedì o martedì sul conto corrente degli interessati in tempi record. Gualtieri ha spiegato che si tratta di oltre la metà delle aziende, 324.000, quelle che potevano essere raggiunte direttamente dall'Agenzia delle Entrate in automatico, grazie ai dati utilizzati nel primo ristoro. Le altre 140.000 imprese dovranno presentare la domanda e l'impegno del Governo è quello di erogare i fondi entro la metà di dicembre. L'Agenzia delle Entrate sabato mattina ha comunicato qualche dato in più sui destinatari dei fondi. 154.000 tra bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti per un importo di circa 726 milioni di euro, mentre 106 milioni saranno destinati a 25.000 aziende del comparto hotel, alberghi e Airbnb. I contributi a fondo perduto saranno calcolati tra il 100 e il 200% di quanto già ricevuto con il decreto rilancio. Il DPCM ha previsto delle risorse anche per il TPL, il trasporto pubblico locale, e ovviamente è sotto gli occhi di tutti che qualcosa non ha funzionato nei trasporti pubblici. Nel decreto Ristori B, approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri, ci sono nuove risorse per il trasporto pubblico locale, il TPL. 300 milioni di euro anticipati rispetto al 2021, dei quali 100 potranno essere utilizzati per il ricorso a servizi aggiuntivi, mentre i restanti 200 potranno servire alla copertura delle perdite causate dalla riduzione dei ricavi. Lo ha detto la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, alle regioni e agli enti locali. Le nuove risorse potranno essere utilizzate, ma solo quando saranno state utilizzate per il rafforzamento del servizio durante la pandemia quelle già stanziate dal MIT nell'arco del 2020, che ammontano a 1 miliardo e 100 milioni. Al trasporto pubblico locale servono misure strutturali, ha spiegato la Ministra De Micheli, una riforma del modello organizzativo che è fermo dal 1997, mentre il mondo della mobilità è cambiato. Occorre un progetto che possa renderlo più efficiente e sostenibile, adeguato alla prospettiva di una riapertura completa di scuole e attività in sicurezza. Per questo nel decreto Ristori Bis anticipiamo 300 milioni del 2021 per consentire alle aziende del TPL di organizzarsi da subito. Sono fondi che si aggiungono ai 12 miliardi destinati nell'arco di 5 anni agli investimenti per i bus ecologici e alla realizzazione dei nuovi sistemi di spostamento rapido di massa nelle città. Abbiamo parlato di soldi che arrivano alle aziende già lunedì sul conto corrente. Speriamo che questa iniziativa del governo così tempestiva possa evitare di chiudere all'azienda di cui parleremo tra qualche istante, ma anche a molte altre che si trovano in questa situazione. È diventato virale infatti il video del titolare di un bar al villaggio sereno che, preso dallo sconforto per la chiusura, aveva annunciato la chiusura ma non per 15 giorni o un mese, ma definitiva della sua attività. Buongiorno a tutti, speravo di fare un video divertente, invece non ha niente di divertente a questo video. Un saluto ai miei clienti, un saluto a quelli che fino al 3 dicembre non potranno più venire al baretto, ma per come stanno andando le cose probabilmente il baretto non riaprirà più, credo. Io quando ho pubblicato quel video, mezz'ora prima ho saputo che avremmo avuto di nuovo un'altra chiusura. I due mesi e mezzo passati da marzo a maggio mi avevano già messo in ginocchio, però due soldini, i parenti, gli amici, i clienti, devo dire che poi sono diventati anche amici, e quindi mi hanno dato la forza di ricominciare. L'orario delle due settimane intercorse prima di questo secondo lockdown mi hanno ucciso. Il mio incasso più alto, signor Conte, è stato di 200 euro un sabato e di 40-45 euro nei giorni settimanali, perché l'orario che lei ha proposto è indecente. La Movida non la fanno al Villaggio Sereno, la fanno in altri posti. Questo è lo stralcio dell'intervista che abbiamo realizzato e il racconto integrale nel nostro focus in chiusura di giornale, proprio dopo il TG. Ora invece la cronica con il furto alla crevale di Palazzolo, un botto incredibile, molto forte, in piena notte e sono fuggiti i banditi con un bottino di circa 20.000 euro. Un botto violentissimo intorno a mezzanotte e 30 che ha fatto tremare i muri dello stabile e spaventato i residenti di via Zanardelli a Palazzolo sull'Oglio, pochi metri dall'ufficio postale preso di mira pochi mesi fa. Questa volta l'obiettivo è stata la filiale del credito valtellinese. Un botto che ha fatto saltare il banco, ma ti ha permesso ai ladri in pochi minuti di fuggire con un bottino stimato intorno ai 20.000 euro. Le indagini sono curate dai carabinieri di Palazzolo e dal nucleo operativo di Chiari. L'esplosione, oltre ad aver spaventato i residenti, ha creato anche parecchi danni all'interno della filiale. Ci fermiamo tra pochi sei secondi e ritorniamo insieme con la pagina sportiva. Alimenti con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet. Puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Sanificare e sterilizzare tutti i vostri ambienti da oggi è diventato un gioco da ragazzi. Con Apollo è la sola forza del vapore. Buona serata anche agli amici sportivi. Tre punti importanti, tre punti pesanti, quelli che il Brescia ha conquistato a Cosenza con tanta sofferenza. Comunque ne parleremo subito all'analisi di Fabio Pettenò. Il Brescia vince ma non convince del tutto. Ritorno ai tre punti della formazione guidata da Diego Lopez che nella settima giornata del campionato cadetto batte il Cosenza in trasferta per 2 a 1. 76 minuti nei quali il Brescia aveva controllato la partita portandosi sul doppio vantaggio. Grazie al gol nel finale del primo tempo di De Sena e poi dalla stoccata dai 30 metri a metà del secondo tempo da parte di Filippo Iagello. Un Brescia che non convinceva dal punto di vista del gioco e che al 76esimo prendeva il gol del 2 a 1. Un bellissimo tiro a giro del neo entrato da parte del Cosenza a rimettere in corso la formazione calabrese. Da quel momento in poi il Brescia andava in confusione. Fortunatamente dalla panchina si alzava all'innesto di Torregrossa, entrava Torregrossa in campo e riusciva a dare quel qualcosa in più permettendo alla squadra di rialzare un pochino la testa. Ma davvero pericolosa la formazione di casa Diocchiuzzi con quattro clamorose occasioni da gol. Due delle quali sventate da Joren e due calciate fortunatamente al vento. Brescia dunque che torna al successo. Ora 15 giorni, 10 giorni di pausa per le nazionali con qualche giocatore che volerà lontano da Brescia. Ma l'opportunità soprattutto per Diego Lopez di lavorare su quei giocatori. Donnarumma, Torregrossa e Ragusa quest'ultimo in campo per una porzione di partita a cercare di recuperare la miglior condizione. C'è ancora da lavorare. Brescia che arriva a 8 punti in classifica e quando tornerà troverà il Venezia. Un Diego Lopez è soddisfatto però nel dopo partita e ha detto abbiamo sofferto ma in Serie B si soffre sempre. Perché o sei avanti i 10 punti oppure devi soffrire. Sentiamo le tue parole. Secondo me in Serie B si soffre sempre. Quindi ci saranno molte partite dove saranno così. Bisognerà soffrire. E questo è il campionato di Serie B. Sono contento che si è fatta una partita di squadra. E' normale soffrire. In una partita se non soffri vuol dire che sei 10 punti avanti gli altri. E noi non siamo 10 punti avanti gli altri. Noi dobbiamo lottare come si è lottato oggi. E quindi questo è importante. Bisogna saper soffrire anche. Già oggi ci siamo migliorati che non abbiamo preso il gol. E questa è già una cosa buona. Ci siamo portati questi tre punti. E niente, adesso abbiamo due settimane. Bisogna cercare di migliorare la gestione della palla. Secondo me è un momento importante. E' un po' questo. Arrabbiato no. Però è normale che poi quando uno vede quello che è successo sabato scorso. E vede che prendiamo un gol. Tra l'altro un bel gol. Perché poi c'è stato un bel gol. L'avversario gioca. Ma oggi era importante vincere. Quello che gli ha detto a loro. Quando uno vede poi la squadra che soffre. Credo che cerca di farla soffrire. Sì, ma attenti, concentrati. E sento sempre squadra. Però poi credo che è stato un risultato importante. Bisogna risaltare che se vinto in un campo che non è semplice. Queste dunque le dichiarazioni, le parole di Diego Lopez. Nelle dopo partite. Sapete che per l'emergenza Covid non abbiamo accesso allo stadio. Quindi grazie all'ufficio stampa delle Brescia Calcio che ci fornisce perlomeno l'audio a commento della partita. Parliamo ora invece di pallavolo. Anche la pallavolo domani gioca. Però Atlantide sul campo di casa contro BCC Castellana Grotte. Ovviamente a porte chiuse. Primo match a porte chiuse della stagione per i tucani che ricevono a San Filippo la BCC Castellana Grotte. Una vittoria riuscire a giocare e dare gioia a chi ci segue in casa, ha detto coach Zambonardi. Rinviate tre gare della quarta giornata per positività al Covid e impossibilità di fare tamponi di verifica. La gruppo Consoli Centrale del Latte ci riprova e dopo lo stop della terza giornata determinato dalla positività al Covid di alcuni atleti di Mondovì ospita domani il big match contro Castellana Grotte che arriva al San Filippo con due punti rimediati nel tiebreak d'esordio proprio contro i piemontesi. I pugliesi guidati da coach Gulinelli hanno poi incontrato Bergamo in casa subendo una battuta d'arresto. Ma restano per Brescia una bestia nera. La scorsa stagione hanno conquistato entrambi il match al quinto set. Tra i molti traguardi da tagliare ci sono quello di Tiberti a 4 punti dai 900 in carriera e quello di Gitto, 3 muri ai 400 in regular season e Patriarca 10 punti ai 2300 in carriera. Bocca al lupo allora all'Atlantide, Palavolo Brescia per domani. Noi ci fermiamo qui e vi ricordo che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi anche nelle prossime ore sul nostro sito internet live Brescia.tv sul quale come sempre trovate la diretta del nostro canale 16 e 197 delle digitali terrestre. Come sempre vi ricordo che se volete invece ricevere le notizie direttamente sul vostro telefonino nell'account Telegram allora iscrivetevi ai nostri canali Telegram, live Brescia News oppure live Brescia Sport. Vi ricordo, sigla e poi il nostro approfondimento di oggi con la storia appunto di Frank che probabilmente dovrà chiudere il baretto proprio per i lockdown ripetuti in questo periodo e 7 e mezzo di seguito in serata. Invece dalle 21 l'appuntamento è con il dialetto bresciano, con le commedie dialettali. Grazie per essere stati con noi, a tutti l'augurio di una buona serata e di un buon weekend. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Puoi riascoltarla in versione.